Capite che i tre brani che vi ho dato non sono altro che la specificazione. Ferite che si fanno feritoie, fico d'India che da pungente diventa dolce, il pane che se te lo mangi ammuffisce perché te lo mangi da solo ma se lo condividi diventa dono, diventa il favorito. Ecco queste sono le cose che ho imparato da questo libro, ho rivissuto in questa esperienza, la mia esperienza, ma credo anche oggi l'Italia di questo ha bisogno in questo momento, ha bisogno veramente di riconsiderare i più piccoli e i poveri come il valore più grande. Ecco allora il grande dramma dei precari, questo grande dramma che voi avete, che noi tutti abbiamo, perché ormai nord e sud del mondo non è sud Italia, non c'è più distinzione, forse sulla quantità ma sostanzialmente uguale, Molise, Calabria, Trentino sostanzialmente sul precariato. Ed ecco la grande domanda, come porsi davanti a questa realtà, come fare in modo che chi soffre non sia dimenticato da chi cerca di dire io difendo il mio, perché questo è il rischio, che chi sta bene ha un'età più grande, anche l'idea di portare la pensione sempre più in su, non lo so se sia la scelta da fare, la migliore, o se non ci sia l'idea di creare attraverso una tassazione sui pensionati un fondo per i giovani. Non può essere che la nonna lavora e la nipote non ha lavoro, perché questa è l'Italia. Come fare a rendere equalitaria la situazione? Come fare a favorire il pane per tutti? Come fare a rendere dolce il dramma della disoccupazione? In che modo potersi accostare? Ecco, le domande attraverso i tre esempi che io vi ho fatto, che sono esempi di vita, sono le domande sociali e politiche che noi trasmettiamo in questo momento, anche in alto, augurandoci che arrivino anche in alto, proprio perché in questo momento noi crediamo che veramente anche a livello, ecco perché ammiriamo ad esempio la saggezza di Napolitano in questi giorni, la chiarezza sua, il modo come lui sta guidando in maniera chiara la priorità che ha dato al Sud, ai poveri, ai giovani soprattutto. Ecco, queste sono le situazioni. Cioè Don Contiero non è solo un ricordo, ma diventa un metodo di dire guarda che chi soffre di più ti è maestro, perché spesso, capite bene, io ai ragazzi nella teologia do queste tre S. la scienza più la sofferenza diventa sapienza, che è poi la frase che dice anche lui, no? La scienza più la sofferenza diventa sapienza. Ciò che veramente noi abbiamo bisogno è proprio questo, di unire insieme la scienza, e siamo in università, con la sofferenza che è la vita, perché allora diventa sapienza. E' ciò che è veramente grande, grandissimo questo libro, questa esperienza, ma anche la realtà oggi è proprio questo, imparare la sapienza dalla scienza che diventa capacità di incontrare la sofferenza. Le ferite e le feritoie diventano luce. Queste sono le grandi dinamiche. In questo senso è chiaro che potremmo aggiungere molte altre cose. Io aggiungo solo alcune parole decisive sul piano della dottrina sociale della Chiesa, ed è l'esperienza che l'anno scorso abbiamo fatto nella settimana sociale a Reggio Calabria. Con cinque parole importantissime, specialmente una, le cinque parole che sono state portate in questa realtà sono queste qui, ve le dico perché sono estremamente belle e anche di grandissimo valore nella esperienza quotidiana. Le parole che ci ha dato la settimana sociale sono queste, intraprendere, ve le dico poi ve le spiego, intraprendere, educare, includere, slegare e compiere. Ve le ripeto, uno ciascuno, perché la sistemazione dei problemi di oggi, le grandi encicliche sociali, trovano in questo piccolo documento un cammino che continua una serie prezosissima. E io mi auguro, così lo dico qui, però sarebbe proprio bello se io potessi dare un consiglio a chi sta facendo il nuovo governo oggi, di andarsi a rileggere le proposte che duemila cattolici l'anno scorso hanno fatto autorevolmente. Non hanno fatto una dissertazione astratta, ma partendo da temi concreti hanno fatto delle proposte dirette e specifiche, in particolare alcune che sono particolarmente importanti. Intraprendere, intraprendere è la parola chiave. Oggi ci vuole coraggio per investire, oggi ci vuole la forza, ci vuole la speranza. Grandi scrittori, anche psicologi raffinati dicono nel 1947-50, negli anni 50, l'Italia era più povera, ma c'era più coraggio, c'era più voglia di futuro. Oggi ci sono più soldi, ma non c'è la stessa cosa. Sapete cosa ci manca? L'ho spiegata a Madrid con tantissima gioia ai ragazzi, ho riletto la poesia di Leopardi, l'infinito. E guardate, ho avuto, non io, la poeta, dell'applausi grandieri. I ragazzi si sono immedesimati in questa situazione. Un bisogno di infinito ce l'abbiamo davanti, ma davanti a noi, in questo bisogno di infinito, c'è una siepe. Ecco, oggi c'è una siepe davanti al nostro futuro. Questo è il problema. Chi si ferma alla siepe non costruisce nulla. Ecco, la grande fregatura oggi è proprio questo, essere limitati dalla siepe. Ma la grande proposta dell'uomo di buona volontà, di un'università, della Chiesa, è proprio questo, comparare, come dice il testo del poeta bellissimo, sedendo e mirando, vo' comparando la gioia di un infinito con una voce che è il vento. Il vento mi fa da mediazione, diremo in termini filosofici, da analogia a entis. Le piccole cose mi richiamano le grandi cose, i piccoli segni. Ecco, abbiamo un bisogno immenso di una parola fondamentale che si chiama la parola oltre, l'oltre. Non il davanti, ma l'oltre. Oltre la siepe. Intraprendere vuol dire oggi credere nell'oltre, nelle cose più grandi. Pensate anche chi si sposa, pensate chi diventa prete, pensate chi nella vita costruisce il proprio futuro. Oltre. Ecco, questa è la cosa importante. Seconda parola importante è la capacità di educare. Sull'educare, mi fermo solo su una parola, sostenere i genitori, sostenere gli adulti, più ancora dei ragazzi. Perché oggi chi è in crisi è la figura del docente e la figura del genitore. Terza parola, su cui è bello che ci fermiamo un attimo, ed è la parola includere, le nuove presenze, con delle proposte dirette, sembra di sentire da un contiero dietro, a proposito degli immigrati. Ci sono delle proposte politiche dirette e poi ci sono delle proposte sociali e culturali. ve ne leggo alcune, fatte solo qualche minuto ancora vi tolgo, ma sono molto belle, purtroppo poco valorizzate, anzi, in un ambiente di lega molto dimenticate, una lega che ieri non si è nemmeno presentata, dal futuro presidente, capite bene. Le proposte sono queste, riconoscere la cittadinanza ai figli degli immigrati nati in Italia. Questo non l'ho fatta io, e la proposta. Ecco, guardate, veramente, sono così belle rileggerle queste proposte, così vive, oggi, riconoscere, non concederla, i diritti non si concedono, ma si riconoscono, qui siamo in un alma mater, universitatis, riconoscere la cittadinanza ai figli degli immigrati. Secondo, dare agli immigrati il voto nelle elezioni amministrative. Terzo, accedere al servizio civile, farli accedere al volontariato, e rileggere, rivedere complessivamente la legge sull'immigrazione, che è veramente iniqua, anche questa, sapete bene, e ci auguriamo che il nuovo governo abbia questo coraggio, proprio in memoria, anche di Don Contiero. Poi proposte culturali e sociali, valorizzare le intelligenze, riconoscere i titoli di studio di altre terre, aiutare e sostenere l'imprenditorialità che gli immigrati stanno già dimostrando, difendere la dignità degli immigrati nel campo del lavoro, spesso schiacciata, che non avvenga più lo scempio avvenuto a Rosarno, l'anno scorso vi ricordate, la salute e il carcere non sia oggetto di discriminazioni, proposte educative, togliere, spezzare l'iniqua eguaglianza, spesso appare, che appare sui giornali, tra immigrazione e criminalità, tristissimo questo, guardate sui giornali spesso si uniscono le due cose, separare le paure, superandole con la corretta informazione con un linguaggio preciso e rispettoso e diffondendo le esperienze positive con un dialogo sulle cose già attuate, ma anche per la Chiesa. Ogni comunità ecclesiale dovrebbe essere laboratorio di speranza, annuncio di Vangelo rispettoso e liberante, tutela dei diritti degli immigrati, dialogo ecumenico, mediazione culturale, cura dei valori etnici tipici di ogni popolo, sostegno al lavoro, in modo tale che ogni casa si senta come una Chiesa, ogni Chiesa come casa. Ecco, poi c'è l'esperienza dello slegare, e qui c'è tutta una riflessione sul mondo universitario, perché possa essere veramente il nostro futuro dando, slegando le capacità, cioè dando valore al merito, recuperando però anche le opportunità e dando a ciascuno di noi la capacità di essere autentico. E sul piano politico, l'ultimo punto, completare, ci sono quattro proposte dirette. Primo, maggiore democrazia nei partiti. Secondo, la revisione della legge elettorale, questa non la dico io, ma duemila delegati l'anno scorso l'hanno fatta, un controllo sul federalismo, che sia autenticamente solidale e l'attenzione al sud. Ecco, io vi ho letto queste cose, perché come vedete i grandi uomini hanno fatto la storia, ora tocca a noi. Qui c'è dentro veramente un segreto grandissimo, una serie concretissima di dire quello che Don Contiero aveva fatto, che io vi ho reso attraverso quelle immagini, ecco l'ho attuato in una serie di proposte sociali e politiche precise. A noi raccoglierle, discuterle e soprattutto farne immensamente tesoro. E allora veramente il ricordo di una figura diventerà capacità oggi di speranza e guarderemo oltre la siepe. Quello che io credo anche da questo dibattito ne nasca è la voglia di dire fa o Signore che il mio cuore non si appesantisca mai. Ed è proprio l'augurio che vi faccio anche per l'avvento. Grazie e buon cammino. Grazie. 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 Grazie a tutti.